Musica Presidente, l'Assemblea dei Costruttori del Lance capita in un momento di rivoluzione, diciamo così, anche di tutto il settore con il super bonus, ma anche un cambiamento per quanto riguarda i costi delle materie prime, il costo dell'accesso al credito e anche un cambiamento di mentalità che per forza deve investire il mondo delle imprese. Ci vuole dare il quadro della situazione attuale? Il 2023 sarà un anno di selezione, lo dico più volte, causato da tanti temi. Il primo è il caro Materie Prime, un super bonus che ha dato euforia, però ha creato anche qualche piccolo problemino, soprattutto nell'incassare questi benedetti crediti che più volte sono stati bilantati, sono stati spiegati in tutte le salze a livello nazionale e anche regionale e provinciale. Quello che voglio dirvi è che partendo da dei numeri si possono fare delle assunzioni e si possono decidere con test e pensanti quelle che saranno le soluzioni su Padova. Quindi noi siamo partiti con un studio del Cresme che ci ha permesso di lavorare soprattutto su quelli che sono i numeri delle nascite, perché se non partiamo da questo non abbiamo capito chi farà i prossimi lavori e soprattutto che cosa sarà della nostra società. Perderemo 50.000 abitanti nei prossimi 20 anni. Questo vuol dire che dobbiamo pensare a come velocemente ricoprire questa falla. Probabilmente saranno gli immigrati che ci dovranno dare una mano, ma non possono venire qui e non rispettare le regole, ma devono essere integrati, devono fare dei lavori anche che adesso gli italiani non vogliono più fare. Dobbiamo cercare di lavorare per far arrivare quegli investimenti che devono fare ripartire Padova e lo sta diventando una parte centrale dell'Europa e anche del Veneto. Pensate, ci saranno all'incirca più di un miliardo di investimenti su Padova, a partire dal nuovo ospedale, dalle linee del tram, dagli investimenti dell'università, pensiamo alla caserma Piave, pensiamo alla fiera, alla nuova facoltà di ingegneria, pensiamo a tutto quello che ruoterà attorno alla nuova viabilità di Padova, perché a Padova si sta ancora in coda tante ore e dobbiamo pensare a nuovi ponti, a nuovi sistemi di comunicazione che permettono la circolazione delle persone. Se dopo vogliamo farlo in 15 minuti, in 20 minuti, il costruttore non può entrare all'interno di queste logiche. Però stasera ne verrà discusso, ne verrà discusso con il prorettore al bilancio, con il vice sindaco di Padova, con il presidente degli industriali, proprio per avere, per creare quella comunità di pensiero che deve far ritornare Padova al centro dell'Europa e al centro dell'attenzione. Al di là del dato delle nascite, quali sono gli altri dati importanti? Padova sta crescendo dal punto di vista delle case, delle abitazioni, dei lavori o no? Allora, dal punto di vista dei lavori c'è tanto da fare ancora, perché i progetti devono ancora partire, però stanno partendo e partiranno tutti allo stesso momento, molto probabilmente. Dovremo cercare tante ditte sul posto e dobbiamo cercare di avere più aggregazione all'interno di queste ditte che magari a volte soffrono di inanismo. Ecco la spinta che l'ANCE deve dare e il supporto che queste associazioni datoriali possono dare al territorio. Al momento c'è proprio il rischio che le imprese padovane non possano partecipare a questi grandi lavori che cambieranno un po' la città? Sicuramente c'è questo problema, saremo dei grandi subappaltatori oppure se non ci tuteliamo e formiamo delle ditte più grosse rischiamo di perdere il treno. Perché dice che nel 2023 rischiamo di perdere quasi la metà delle imprese che ci sono? Ci sono dei problemi importanti relativi alla struttura del nostro sistema. Il caro Materie Prime ci ha fatto subire un assorbimento degli utili un aumento della PFN e soprattutto abbiamo ditte che non sono così patrimonializzate quindi dobbiamo cercare di ragionare con gli imprenditori per creare delle ditte più solide soprattutto dal punto di vista non economico ma finanziario. I rapporti con le banche adesso sono cambiati negli ultimi due mesi. direi anche negli ultimi due settimane. Una volta si faceva un business plan su un pezzo di carta si diceva un pezzo di formaggio, di carta da formaggio adesso il business plan è qualcosa di molto più strutturato deve essere spiegato, c'è un gergo molto chiaro da spiegare alle banche c'è il codice di crisi di impresa che sta pesando soprattutto nel dare nuovi affidamenti se vuole andiamo nel tecnico e le posso dire che molti affidamenti dati nel 2020 con le garanzie MCC adesso hanno portato purtroppo a dei problemi di chiusura di finanziamenti a breve che adesso le banche non danno più il semplice chirografo che si chiedeva adesso è un po' più complicato e soprattutto lo strapaghi quindi la ditta che è in difficoltà non è che non avrà più un prestito dalla banca ma lo pagherà troppo a proposito di crediti c'è stata la bolla del super bonus molte aziende vantano questi crediti e non riescono a farseli pagare adesso è stata decisa una proroga si potranno smaltire nel giro di più anni che impatto ha avuto questo sulle imprese padovane? ci sono aziende che hanno rischiato di chiudere i battenti per questo? sì sicuramente sicuramente e guante per dare un po' un quadro allora vede questo è un dato molto delicato perché chi è in difficoltà come lo diciamo molte volte stenta a dirlo deve avere il coraggio di venire fuori dire sono in difficoltà datemi una mano purtroppo questo fa fatica a succedere e questo purtroppo è esattamente dove la mafia va a penetrare sembra indolore quello che succede e il prefetto lo conosce bene quindi insieme alle interforze dobbiamo andare a cercare di supportare le ditte sane e i crediti genuini devono essere pagati il prima possibile prima che ci sia una moria di ditte si parla circa di 35 mila imprese in tutta quanta Italia io adesso la cifra all'interno di Padova non riesco a dargliela per i motivi che le ho espresso ecco è il credito stesso che viene messo in discussione proprio perché all'interno si sono mosse anche delle c'è mossa l'illegalità si è mossa l'illegalità abbiamo trovato 100 metri di facciata rifatta con circa un milione di euro che era semplicemente una foto di powerpoint ma come si fa a far fare un lavoro senza chiedere se la ditta è iscritta per esempio agli edili o se applica il nostro contratto ma non hanno neanche messo le protezioni non hanno neanche cominciato il lavoro hanno fatto tutto sulla carta ma è chiaro che quella è una frode evidentemente ce ne sono parecchie se il credito stesso adesso vale molto meno anche per chi lo vuole comprare diciamo che dal punto di vista tecnico adesso è impossibile frodare lo Stato hanno fatto un sistema che per forza devono ricontinuare a finanziare anche all'80 o al 90% adesso vedremo si parla di questi numeri proprio per dare il commitment da chi deve ristrutturare causa e di volerlo fare nella maniera più lecita e dare la possibilità sia con sconto fatturo o con altri meccanismi che devono essere normati e le assicuro che adesso il tecnicismo è affidabile certo e darà la possibilità di creare qualcosa di sostenibile per i prossimi dieci anni sul resto serve fare controlli a tappeto? bisogna avere più ispettori cioè noi non possiamo immaginare che su Padova ci siano uno o due ispettori che devono controllare tutti i lavori che stanno adesso atterrando in questa bellissima città che ripeto io amo molto la vivo però ha bisogno sicuramente di una svolta se vogliamo far arrivare tutti questi soldi e col tema dell'illegalità l'abbiamo sfiorato appunto per quanto riguarda il super bonus ma il tema del rispetto delle regole di un cambio di mentalità generale è una cosa su cui state insistendo molto? stiamo insistendo molto perché se viene garantita l'applicazione del nostro contratto edile a partire soprattutto da quella che è la progettazione e poi l'esecuzione dell'opera tutto il resto a cascata viene tutelato quindi chi entra in cantiere su Padova deve sapere che deve applicare il contratto edile deve versare la cassa edile e sarà soggetto a dei controlli è chiaro che noi anche con la scuola edile e del CPT daremo supporto su questa azione proprio per prepararsi a subire anche dei controlli in cantiere è questo che si fa in maniera trasparente senza nessun problema perché bisogna pagare i vari operai nella maniera corretta bisogna versare i contributi e soprattutto bisogna rispettare quelli che sono i tempi di esecuzione abbiamo su Padova degli esempi che sono mi lascio usare un termine che sia il più politicamente corretto degli esempi da non ripetere per esempio per esempio lo stadio non è possibile che un'opera venga appaltata e che chi vince il lavoro dichiari delle cose che poi questo non venga rispettato ci sono stati oggettivamente dei problemi relativi al caro Materie Prima c'è stato il Covid ma senza fare critiche di natura politica cerchiamo di lavorare per fare dei progetti corretti al millimetro considerando tutti i bulloni facendo anche le operazioni di post belliche di analisi dei terreni e non trovarci delle sorprese durante l'esecuzione a proposito di appalti si discute sempre sul preziario di questi appalti anche da parte degli enti regionali e a che punto siamo stiamo rifacendo il preziario 2023 su questo Ance Padova sta dando una mano enorme ad Ance Veneto e quindi alla regione e a tutte le altre datoriali per cercare di trovare un'analisi più corretta e per pagare le imprese con i prezzi di mercato magari indicizzando questo tipo di prezzi a quella che è la situazione politica o geopolitica Secondo voi questo andamento sarà stabile o siamo dentro una bolla? Allora gas oggi 8 novembre 2022 oggi il gas sta calando sta calando l'energia non vedremo questi effetti nelle nostre bollette nel breve termine non sto vedendo un un calo nelle materie prime perché ovviamente chi ce l'ha a magazzino l'ha pagata tanto quindi bisogna un attimo smaltire la sbornia e probabilmente l'effetto del rialzo dei tassi per combattere l'inflazione sta rallentando tutta l'economia quindi glielo ho già detto prima sarà un anno di selezione il prossimo non un blocco totale ma un rallentamento forte probabilmente ce l'avremo io sono pieno di curriculum negli ultimi settimane glielo avevo detto cambia il governo cambiano delle leggi cambia il mercato ricominciamo ad avere nuovi lavoratori e il mercato deve ripartire effetto reddito di cittadinanza il reddito secondo me va perfezionati tanti hanno paura di dire cercano sempre di essere molto delicati su questo lo capisco lo capisco sarei stato molto più crudele gli anni scorsi adesso con il ruolo che ricopro probabilmente bisogna usare i termini giusti per descrivere quello che è un'opportunità per chi veramente è in difficoltà e cercare di combattere chi veramente fa il furbetto però questo effetto di annuncio che verrà tolto stimola la gente a mandare il curriculum proprio cambia anche il modo il modo di abitare perché vediamo una città che si spopola ma che nello stesso tempo costruisce qualcosa di nuovo cosa sta succedendo beh il 2020 e la pandemia l'ha detto in maniera molto chiara io voglio una casa con un giardino oppure con una bella terrazza e voglio poter vivere in serenità stando a casa però io voglio essere connesso e voglio il drone che arrivi sulla terrazza e voglio sicuramente vedere la città e voglio l'armonia del verde e del cemento quindi cambia proprio il modo di abitare beh certo e stiamo copiando quello che gli altri paesi stanno già facendo da tanti anni io è questo che sogno quindi pollice in alto o in basso per la visione del futuro avanti a bomba super bonus che Padova ha accolto bene stato utilizzato ma indubbiamente la misura shock per la ripresa dell'economia e del settore da quando è entrata in vigore la norma è altresì vero che purtroppo una serie di situazioni dovute a truffe e a frodi di ogni specie hanno messo in discussione il proseguio della norma con una serie di correttivi che comunque consentono in ogni caso adesso nel nostro Veneto di dire che gli investimenti super bonus al 31 ottobre 2022 sono attestati intorno ai 5 miliardi di euro con un investimento medio nei condomini di circa 600 mila euro ecco i condomini che hanno un po' faticato i condomini sono probabilmente una fase adesso di ripresa all'inizio non era stata accolta forse con la dovuta attenzione la norma si pensava forse che le operazioni potessero essere realizzate con una certa rapidità e facilità poi invece ci si è accorti che le norme sono estremamente diciamo complicate c'è anche una certa dose di burocrazia che per l'appunto caratterizza queste norme e oggi comunque vediamo anche in città finalmente una serie di interventi che stanno partendo e che ci fanno pensare che anche per il 2023 il super bonus sia pure magari con i correttivi introdotti dal governo almeno così ha annunciato continuerà ecco i crediti delle imprese sono deteriorati questa è una situazione che permane che sta cambiando sì abbiamo notizia di una serie di imprese che operano in questo mercato e che ahimè hanno i cassetti fiscali densi di crediti che ancora non sono stati smaltiti liquidati monetizzati contiamo comunque che le ultime norme e soprattutto anche una circolare dell'agenzia delle entrate recente che ha alleggerito la cosiddetta responsabilità solidale tra cedente e cessionario limitandola al caso di dolo e colpa grave contiamo che queste situazioni possano per l'appunto rimettere in moto un mercato virtuoso adesso cambia un po' tutto che cosa ci si aspetta si parla appunto di un super bonus al 90% soprattutto per le villette stiamo per l'appunto alle prime indicazioni che ci vergano ci vengono dagli organi di stampa e anche dalla nostra associazione nazionale è verosimile che non sarà più 110 ma sarà 90 punto interrogativo e comunque anche una limitazione per le cosiddette villette però ecco sono misure che sono annunciate con la legge di stabilità e pertanto le attendiamo abbiamo le prime indiscrezioni anche attraverso la nostra associazione nazionale ma forse è presto per dare delle certezze sul piano del lavoro invece si comincia a muovere qualcosa voi comunque le imprese edili cercano personale sì questo è verissimo le imprese edili cercano personale specializzato cercano personale quindi in grado di realizzare questi tipi di interventi sono state apportate anche dei correttivi nella fase diciamo di applicazione delle norme sul super bonus fino ad obbligare le imprese che eseguono questi tipi di interventi di riqualificazione energetica ad utilizzare ad applicare il contratto dell'edilizia perché è attraverso poi oltretutto il monitoraggio costante che svolge la Cassedile che possiamo anche altresì verificare quegli incrementi di mano d'opera che almeno nel 2022 ci sono stati ci sono stati probabilmente anche grazie a queste norme che hanno consentito un'emersione di soggetti spuri li chiamo così di soggetti che non applicavano il contratto dell'edilizia nelle fasi di realizzazione dei cappotti e degli altri interventi che sono tipicamente previste dalla premessa anche del contratto nazionale dell'edilizia diciamo che è stato uno shock che ci ha portato nel futuro con imprese che ancora lavoravano secondo sistemi che erano del passato bisogna cambiare proprio cambiare mentalità e servono forse anche figure professionali diverse adesso alle imprese sì questo è verissimo e in effetti la difficoltà di reperimento di mano d'opera delle imprese è proprio in questo senso cioè individuare personale che sia in grado di realizzare a regola d'arte ad esempio l'applicazione dei pannelli per l'efficientamento degli edifici quindi per la realizzazione cosiddetta dei cappotti che probabilmente fino personale che evidentemente va formato anche attraverso la nostra scuola edile ci sono corsi in tal senso e evidentemente occorre anche fare opera di come dire di incentivazione verso le giovani leve e in questo anche la scuola edile è in prima linea proprio per la formazione di questi giovani che è un'esercizio che è un'esercizio Autore dei sovrapposti